Ciao a tutti ragazzi sono i Peterriper e bentornati in questo nuovo episodio della serie di Minecraft. Quest'oggi ragazzi andremo a fare un pochino di esplorazione, possibilmente in una zona all'interno della quale saremmo già dovuti andare in passato. Io ci sono già andato off camera ma non troppo lontano e diciamo che il mio obiettivo sarebbe quello di addentrarmi ancora di più in quella direzione. Infatti ragazzi in questo episodio ho intenzione di andare ad esplorare la parte ovest rispetto al mio villaggio, mentre per quanto riguarda la mappa di Minecraft più che altro nella direzione nord. Infatti ragazzi avevo intenzione di andare da questa parte visto che nelle scorse episodi ci siamo andati anche se poi non ci siamo addentrati più in largo per ovvi motivi. Cioè gli ovvi motivi non sono poi così tanto ovvi, infatti non mi aspettavo di incontrarli sul cammino e questi motivi sono l'incontro con una magione ultra baggata che abbiamo visto qualche episodio fa e poi anche semplicemente il fatto che abbiamo trovato territori migliori da esplorare nel mentre. Quindi diciamo che questo episodio sarebbe tecnicamente per addentrarmi ancora di più verso quel lato del mondo visto che comunque mi è sembrato molto interessante soprattutto viste le ultime volte però prima ancora di andare ad esplorare appunto la zona interessata del mondo volevo un attimino mettere insieme le due spade che siamo riusciti a ricavare tra l'altro mi sono preso il piccone con Silk Touch in caso dovessi trovare dei blocchi interessanti e volevo anche mettere la nuova pettorina insieme a quella che avevo già precedentemente ottenuta. Infatti ragazzi in uno degli scorsi episodi, precisamente due episodi fa, siamo andati a sconfiggere l'Ender Dragon e poi siamo andati all'interno dell'Encity dove abbiamo trovato un'altra spada di diamante con, se non mi sbaglio dovrebbe essere quella con Knockback che possiamo mettere tranquillamente insieme a quella che avevamo adesso per fare una spada tutto sommato decente che però mi va a costare un pochino di esperienza ma fa nulla e poi abbiamo trovato una pettorina che oltre ad avere Fire Protection che è come la nostra praticamente tra l'altro Fire Protection 4 che è molto meglio, ha anche Unbreaking 3. A questo punto non credo convenga tantissimo utilizzare, metterla insieme perché come potete vedere bene o male mi rimangono sempre gli stessi incantesimi e a questo punto decido tranquillamente di utilizzare la pettorina che abbiamo trovato andando appunto nella Encity, lasciando così indietro la vecchia pettorina. Ho visto tra l'altro tutti i vostri commenti, ragazzi sì mi farò una armeria l'unica cosa che volevo un attimino aspettare per vedere se qualcuno mi consiglia qualche design specifico per un'armeria volevo vedere se qualcuno di voi me lo consigliava con magari qualche dettaglio che appunto la rende più originale rispetto agli altri altrimenti faccio un'armeria, do i crediti a tutti perché me l'avete consigliata seriamente in più di 600 persone quindi diciamo che mi viene difficile dare i crediti soltanto a una persona. Ma comunque ragazzi direi che a questo punto siamo pronti per andare ad esplorare tra l'altro io ingenuo e stupido come sono mi sono fatto un'altra mappa che come potete vedere non so perché non si è riempita rispetto all'altra ma fa niente, ne ero fatta un'altra e poi ho riempito questa per sbaglio e mi sono reso conto che non si è nemmeno riempita come l'altra ma non è un problema e ho visto anche alcuni consigli che mi avete dato per la zona campeggio che devo ancora applicare ma che comunque apprezzo tantissimo ragazzi e sono contento che la zona campeggio vi sia piaciuta quindi veramente grazie mille. Comunque avevo intenzione come detto prima di andare ad esplorare questa zona del mondo tendenzialmente sarò alla ricerca di strutture esterne quindi per esempio templi come già detto nello scorso episodio oppure villaggi cose di questo tipo un villaggio abbastanza vicino mi farebbe comodo visto che gli altri non sono proprio, non sono lontanissimi però non sono nemmeno vicini quindi diciamo che uno più vicino mi farebbe comodo e volevo appunto dirvi che il mio obiettivo principale sarebbe quello di trovare delle strutture e possibilmente anche una giungla più grossa di quello che ho visto io in passato infatti ragazzi più o meno verso questa direzione c'è una giungla che però è veramente piccola e per farvi capire non ho ancora trovato un osselotto né un pappagallo al suo interno quindi volevo un attimino vedere se con un pizzico di fortuna saremmo stati in grado di trovare qualche struttura lì c'è la magione baggatissima tra l'altro quindi quella lì non c'è bisogno di andare ad esplorare c'è anche la casa della strega che avevamo già guardato sempre nell'episodio della magione baggata tra l'altro non scherzo quando dico che è veramente esplosa quella magione adesso la faccio vedere per chiunque non abbia visto l'episodio ma come potete vedere anche voi con la coda dell'occhio è rovinatissima non so perché è spawnata così è spawnata più volte la stessa stanza si è baggatissima ma veramente credo che sia una delle magioni più storte che abbia mai visto ce ne saranno sicuramente altre però anche quella lì non scherzo la casa di topolino era messa meglio devo smetterla di fare topolino perché ad alcuni di voi so immagino che dia fastidio quindi vi chiedo scusa in caso comunque come potete vedere si è decisamente messa malissimo peggio di quello che mi ricordavo a dire il vero quindi devo tornare a darle un'occhiata perché ci avrà sicuramente qualcosa che non ho visto quando siamo andati a esplorarla però è conciata male da paura benissimo ragazzi qua davanti c'è un deserto quindi volevo dare un attimino un'occhiata per vedere in caso ci fosse qualcosa di interessante visto che ultimamente con questo mio va mi è andata particolarmente bene con la ricerca di templi e robe varie di là vedo che c'è un pozzo quei pozzoli per chiunque non lo sapesse lo dico sempre nel vecchio tempio del deserto che è andato poi ad essere sostituito dalla piramide che è stata aggiunta un bel po' di tempo fa ma che comunque ai tempi ha introdotto una modifica al dungeon del deserto appunto e una volta per chiunque non lo sapesse bella sta caverna naturale tranquillamente e per chiunque non lo sapesse una volta semplicemente qua sotto dove c'era l'acqua scavando si accedeva alla zona che adesso c'è se si scava sotto il blocco blu all'interno della piramide quindi per chiunque non avesse mai giocato alle vecchie versioni di minecraft una volta era così comunque qua sembra non essere un deserto abbastanza fortunato come gli altri tuttavia diciamo che è un deserto molto grosso e potrei tornarci magari in futuro o per farmare della sabbia anche se vicino a casa mia ho un deserto e non vedo perché dovrei venire fin qua oppure per appunto magari farci qualcosa di più grande visto che il deserto di fianco a casa mia oltre ad essere magari un pochino screpolato dal punto di vista della superficie non è nemmeno troppo grande quindi do comunque un'occhiata ancora in questa zona spero di trovare qualcosa altro interessante e qualcosa interessante l'ho visto sempre in questo deserto l'ho detto che questo bioma è uno dei miei preferiti dal punto di vista dei ritrovamenti che ho avuto ultimamente guardando ho visto appunto due torri simmetriche che mi sembrava strano e appunto sono le torri sembra di essere di un tempio del deserto quindi sono contento almeno una roba l'abbiamo trovata quindi mi va più che bene non mi lamento per un tubass quindi adesso vediamo un attimino cosa riusciamo a trovare spero qualcosa di decente possibilmente magari un libro con mending non mi farebbe per nulla schifo mending è rammendo per chiunque lo sapesse oppure ripristino e non mi sono portato dietro un piccone quindi me lo dovrò craftare bene io non volevo utilizzare il piccone in diamante ma mi ero dimenticato di quanto fosse lento quello di legna va bene che posso prendere della cobblestone qua dal muro e farmi un altro piccone ma a sto punto faccio prima con questo ma veramente credo che facendomi una spaghettata avrei fatto prima e non sto scherzando comunque via sta roba qua magari a sto punto mi prendo anche la tnt uh delle ossa le prendo sempre volentieri ragazzi le ossa sono utilissime per farmare a sto punto vabbè anche il ferro e magari le stringa le stringa non si sa mai possono sempre essere utili me la doro va bene ma va bene la carne marcia non la prendo per il semplice fatto che villager vicini a casa non ne ho quindi non farò i trade molto spesso feather falling 2 credo fosse mending peccato 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 vabbè comunque delle ossa degli smeraldi altre mele d'oro quindi va benissimo e un blocco di tesoro blocco di sabbia ragazzi e poi qua dentro ho altre robe utili da un punto di vista dubbio ma prendiamo prendiamo adesso prendo anche la tnt visto che piace a tutti io non la utilizzo praticamente mai ma visto che lo volete la prendo anche per voi bene il tempio del deserto dire il vero neanche troppo male feather falling 2 non è utilissimo visto che ho feather falling 2 già su queste robe però mettendolo insieme dovrei essere in grado di migliorare l'incantesimo se non mi sbaglio quindi non male non male direi che a questo punto una volta a casa magari provo a mettere insieme il nuovo feather falling con gli scarpini per vedere se me lo migliora comunque ragazzi piccola osservazione mia sta parte del mondo che è a dire vero a pochi metri dal deserto infatti è semplicemente dietro questa collina al deserto che abbiamo appena visitato sembra letteralmente la coda di una balena naturale cioè se ci fate caso sembra la coda di una balena rivolta verso l'alto se fosse più vicino a casa utilizzerei questa roba qua per fare una balena di terra utilizzando la parte sopra di terra e la parte sotto di roccia visto che come potete vedere è anche perfettamente divisa comunque ragazzi nei commenti fatemi sapere appunto le vostre strutture naturalmente generate più strane che avete mai incontrato giocando a minecraft appunto come per esempio la coda di balena barra il braccio di hercules che sporgeva dal terreno che abbiamo visto prima anche se sembrava veramente più una coda di balena girata comunque io proseguendo un attimino con l'esplorazione devo dire che innanzitutto ho perso di vista la giungla che dovrebbe essere in questa zona tecnicamente non era... non riconosco questo territorio quindi sarà sicuramente più a destra però non riesco nemmeno a trovare quella e parlando appunto di giungla non mi farebbe schifo trovarne una infatti come detto me ne servirebbe una l'unico problema è che io nei mondi passati anche della serie trovavo sempre una giungla che poi era enorme mi dava fastidio addirittura da quanto è grossa e adesso non riesco a trovare nemmeno una e che mi dà fastidio lì ho visto un villaggio però che è lontano da casa mia però comunque ho un villaggio quindi un'occhiatina gliela do buongiorno maiale io... che ribio buongiorno volevo un attimino dare un'occhiata però appunto a questo villaggio tra l'altro alla casa del fabbro che potrebbe significare qualche diamantuzzo qualche smeraldo a dire il vero quindi meglio che niente e mi potrebbe appunto essere comunque utile per qualcosa qua c'è l'altro c'è il villager verde che se non mi sbaglio è uno dei villager con i quali ancora non si può scambiare su console su pc forse si può non l'ho controllato nemmeno adesso mi sono preso il pc ma è pieno quanti sono tutti verdi sti villager ok è strana sta roba tra l'altro sti villager se non mi sbaglio sono pure rari da trovare di solito va bene voi fate le vostre cose volevo scambiarci con qualcuno di voi magari qualcosa ma qua dentro cosa c'è? ah adesso il piccone lo trovo infatti vabbè via gli occhi di ragno che direi che non mi servono comunque raga io non vorrei dire una cosa ma trovarne così tanti dello stesso tipo non è normale cioè tanti verdi così non ne ho mai visti o poi vabbè sicuramente qualcuno di voi li avrei visti ah qua c'è uno normale però fa vedere cos'hai stai meno male che sei l'unico perché se siete tutti così tirchi per il resto e raga veramente non credevo potessero spawnarne così tanti in un unico villaggio anzi io direi vero ne avevo sempre visto al massimo uno per farvi capire ed era già tanto per me questo qua è un villaggio fatto interamente di villager verdi ma va bene ok bene ragazzi ho controllato sulla week di minecraft e sì questi villager non è normale che spawnino in così tanti si chiamano neatweet tra l'altro una cosa che non sapevo e non hanno uno scopo ben preciso da quello che si sapeva una volta dovevano essere i tanto famosi villager cartografi e poi alla fine villager cartografi sono diventati dei villager appunto bianchi all'interno dei villaggi mentre questi qua sono stati comunque tenuti per aggiungere un pochino più di profondità se così si può dire al gioco stesso interessante non lo sapevo e sono più che altro stato fortunato tra virgolette a vederne così tanti in un villaggio visto che come recita la wiki tendenzialmente spawnano in bassa quantità e sono difficili da trovare soprattutto in villaggi di piccole dimensioni quindi va bene che quel villaggio lì non era piccolissimo però comunque trovarne così tanti immagino che non sia normale però va bene dai mi ritengo fortunato da questo punto di vista anche se non ci faccio un uso vero e proprio con quei villager lì però un pochino di decorazione non fa male e ragazzi la playstation ha deciso di tirarmi un tiro sinistro un tiro mancino e abbiamo trovato una mansion però come potete vedere non mi ha registrato tutta una sezione all'interno della quale mi mettevo a cacciare gli schifosi di villager e ho ricavato infatti come potete vedere tre totem dell'immortalità per chiunque non lo sapesse si possono trovare più evocatori nella stessa mansion adesso ve lo faccio vedere che sennò poi dite ihihihi si è andato in creativa no ragazzi si possono trovare più evocatori su console soprattutto e come vi stavo dicendo ho trovato appunto la mansion che si trova in una foresta di quarcia scura abbastanza vicina alla zona di ritorno ma comunque abbastanza lontana finalmente una magione intera poi non so quanto mi ha registrato magari sta parte in cui la dicevo me l'ha registrata ma in tal caso la ripeto e vabbè qua c'è un villager normale volevo far vedere più che altro che ci sono anche più evocatori ok l'utilità di sta stanza cos'è ah c'è una cesta in fondo è carina sta roba non l'avevo mai vista eeeh strumento dell'anno vai vai così mi piace mi piace disco 13 con l'inquietante che avevamo trovato anche l'altra volta quindi va bene zappa in diamante non mi lamento sembra uno strumento in diamante gratis però diciamo che magari una spadina in più non è che faccia schifo eh dai su prossima volta magari do un 30 centesimi e mi dai un'altra spada in diamante non lo so però dai non la conoscevo nemmeno sta stanza io ragazzi le magioni le ho spavate davvero poco davvero davvero poco e sono contento comunque di scoprire sempre di più pian piano tra l'altro sta stanzina fatta labirinto con le scale che si alzano e si abbassano spesso non l'avevo mai vista quindi carina come stanza dire il vero volevo più che altro farvi vedere che appunto si possono trovare più evocatori quindi ragazzi adesso vado a cercarne qualcuno do un'altra occhiata al resto delle stanze della magione nella speranza di trovare qualcosa altro di interessante cosa che dubito visto che mi è andata bene fino ad ora e poi ragazzi ci vediamo tra poco ok raga qua a destra ne sento due l'unica roba è che bisogna stare attenti perché non fanno poco male anzi però dai 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 ok 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 questo dovrebbe essere uno tecnicamente dammi il totem dell'immortalità subito subito che sono belli e preziosi e ce ne dovrebbe essere un altro qua intorno perché l'ho sentito stando in quello stanzino non è di qua quello lì sembra un illager più che altro sì sì è decisamente un illager uno di quelli che lascia quanti siete non troppi no però c'è anche il ragno no ragno su va bene quelli lì intanto litigano là dietro questo qua un altro illager comunque no mi sembra di aver sentito un altro di evocatore però dovrebbe esserci tecnicamente visto che il verso si distingue quello degli evocatori anche se può sembrare strana come definizione sembra più un verso da pensatore e infatti eccolo pensi che non tu devi no 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 che evoca le roba infatti ha evocato gli schifosini qua adesso voi fate quello che dovete andatemene ciao creeper tu esplodi fai quello che vuoi e qua intanto devo tirar giù l'altro coso perché sennò fa malissimo con i suoi flagelli o come si chiamano bene smeraldi e un altro totem dell'immortalità su console è possibile appunto trovare più evocatori non so se su pc la cosa è diversa ma visto che in molti avete scritto che non è normale tecnicamente trovarne più di uno mi sembrava strana la cosa ho deciso comunque di specificarlo visto che appunto vi sembrava strana come cosa qua sotto c'è la stanza del gatto comunque che abbiamo trovato prima cioè adesso non so se me l'ha registrata la playstation perché mi sono reso conto che non stava registrando però qualcosina dovrebbe averla registrata forse non lo so ma visto comunque ragazzi che l'esplorazione è andata decisamente bene anche se non abbiamo trovato la giungla a questo punto mi dirigo di nuovo per tornare a casa e a questo punto ragazzi ci vediamo tra poco bene ragazzi finalmente tornati a casa ci ho messo un pelino cioè per quello che è distante ci ho messo un pelino di più non era così lontana da casa mia però ho fatto un giro un pochino più lungo per trovare la per sperare di trovare la giungla non l'ho trovato e mi sono reso conto delle scorti di cibo mancanti quindi ho deciso sembra strano ma di camminare e non correre per evitare che appunto la fame scendesse ci ho messo 5 minuti a tornare neanche tanto ma alla fine ce l'ho fatta adesso devo decisamente recuperare altro polo dalla farm direi che l'esplorazione è decisamente andata bene mi sono ricavato tra l'altro una roba come 5 totale di immortalità se non mi sbaglio 1,2,3,4,5 si decisamente più il libro appunto feather falling 2 che abbiamo ricavato prima e che tecnicamente dovrebbe essere abbastanza decente per la mia armatura che come potete vedere con quegli evocatori con quegli illager si si chiamano illager ho controllato e appunto si è danneggiata un bel po' comunque fammi vedere se sono in grado di incantare i piedini migliorando quindi l'incantesimo feather falling tecnicamente sì e infatti ci arriva a feather falling 3 che non è per nulla male come incantesimo e quindi decido di sfruttarlo al meglio a questo punto ragazzi spero vivamente che questo episodio di esplorazione vi sia piaciuto se mi raccomando ragazzi fatemelo sapere con un bel mi piace oltre a supportare me la serie supporta anche il canale io direi che è stato un episodio molto proficuo e soprattutto mi ha ricavato tante belle cose che potrò utilizzare nei prossimi episodi soprattutto gli smeraldi comunque sì l'ho visto quel cavallo scheletrico non preoccupatevi ne ho anche due in stalla e ragazzi a questo punto fatemi sapere delle idee originali per i prossimi episodi così che io possa andarle a costruire cercando di migliorare poi il nostro villaggio a questo punto ragazzi non mi resta altro che auguravi una buona giornata una buona serata volevo anche ricordarvi di attivare la campanella delle notifiche così che ogni volta che un video venga caricato possiate ricevere un avviso che vi farà vedere appunto il video appena subito caricato proprio rapidi lesti non so cosa significhi ma a questo punto ragazzi come appena detto voglio augurarvi una buona giornata una buona serata e spero vivamente di rivedervi nel prossimo video ciao a tutti ragazzi